ciao a tutti ragazzi e benvenuti sul canale ho fatto questo video ragazzi per ricordarvi del raduno che comunque vorrei fare del raduno tuning che vorrei organizzare e per ricordarvi diciamo i termini per partecipare allora per partecipare dovete iscrivervi al canale condividere questo video e il video che lascerò in descrizione e sotto il video che lascerò in descrizione dovete andare a mettere il commento partecipo in maniera tale che ogni consigliate aggiungere o vi posso aggiungere e da contattarvi per partecipare a questo evento tuning in questo evento tuning si andrà a vincere un account ma dato più che altro l'evento tuning ha uno scopo scusate ragazzi ha uno scopo per stare insieme per passare qualche ora insieme e unendo anche uno scopo di passare qualche ora insieme ci abbiamo anche un premio per il primo classificato insomma il primo classificato andrà giudicato da dei giudici quindi non sarò io a giudicare o meglio farò parte della giudica dei giudici però non sarò solamente io a giudicare chi andrà a vincere questo account ma dato quindi ragazzi se volete partecipare andate nel link in descrizione mettete sotto il video partecipo e il vostro in dpsn oppure aggiungetemi ragazzi niente non c'è null'altro da dire io spero che arriveremo a un numero buono per poter fare questo questo raduno in maniera tale non so pure una ventina di persone almeno siamo un pochino e magari ci divertiamo di più e niente penso di aver detto tutto andate a vedere questo video ricordate i termini iscrivetevi al canale condividete i miei video mettete mi piace insomma calzi vari e niente ragazzi per questo video è tutto un saluto da maxi al prossimo video